Due quintali di rifiuti abbandonati sul lungomare dello Stazzone sono state raccolte da una cinquantina di cittadini stranieri provenienti da Gambia, Guinea, Amali, Costa d'Avorio, Egitto, Tunisia, Marocco, Camerun, Burkina Faso, Albania e Venezuela. Tutti i visitatori che si sono dati appuntamento su quei luoghi per incontrare il presidente del WWF Siciliare e Mediterranea Giuseppe Mazzotta ed inscenare un flash mob di sensibilizzazione sull'abbandono dei rifiuti che li ha visti impegnati a raccogliere un paio di quintali di materiale spiaggiato. Il giorno prima si erano incontrati con il rappresentante del WWF nei locali del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, sede di Sciacca, per trattare l'argomento con dati alla mano. Alla conferenza preparatoria era intervenuto Santino Lopresti, dirigente scolastico del CIPIA di Egrigento, da cui dipende la sede di Sciacca. Preziosa è stata la modalità con cui la referente del progetto Claudia Geraldi ha concordato i termini degli argomenti da trattare. La responsabile di sede, Marilena Sortino, si è dimostrata particolarmente coinvolta e propositiva. Come attenti sono stati gli insegnanti Vittoria Russo, Claudia Merlo, Angela Ciaccio, Giuseppe Bilello e Vito Pietro Silvio, che hanno accompagnato gli allievi della scuola in questo percorso di sensibilizzazione integrativa. L'entusiasmo dimostrato dai partecipanti al progetto è stato grandissimo e denso di momenti anche poetici che si sono fatti parole in aula d'azione e spiaggia. Come più volte ribadito dagli esponenti del WWF, queste operazioni non servono a pulire le spiagge ma a dare esempi di civiltà da replicare, che a dare l'esempio poi siano questi cittadini stranieri, una bellissima cosa. Per il ritiro dei sacchi è stato contattato il comune di Sciacca nella persona dell'assessore di Mino che ne ha garantito il ritiro.